buongiorno colazione scusate allora allora quello che dovrebbe fare colui quale narra e io ho la pretesa di essere il narratore deve essere bravo nella sua sintesi dicendo poche parole rendendo la comunicazione piacevole perché tale deve essere e cercare di esprimere il concetto il più chiaramente possibile di modo che il pensiero che viene pubblicato pubblicato cioè reso disponibile al pubblico possa essere materia di discussione o di o di ragionamento lo dico tanto per non dimenticare cioè per cercare di ricordarvi che questi filmati io non li faccio per velleità o per un secondo fine cioè faccio i filmati così dopo divento un parlamentare io li voglio abolire i parlamentari scusate la classe politica che adesso fa finta di fare parlamentare perché non c'è bisogno di loro perché se noi avessimo avuto il riscontro che i politici stavano in qualche modo facendo gli interessi degli italiani e poi tanti mi dicono però crack quella politica lì quelli erano tempi diversi erano tempi diversi dove l'italia si stava riprendendo si stava ricostruendo dopo la seconda guerra mondiale organizzata dai banchieri non è stato hitler che ha organizzato la seconda guerra mondiale perché hitler senza soldi non andava a nessuna parte allora quindi hanno dato spazio all'italia di potersi rimboccare le maniche e rifare il paese quindi ponti strade ferrovie mezzi di comunicazione telecomunicazione energia eccetera quando l'italia ha è arrivata ad essere la quarta superpotenza mondiale ed era colma perché anche l'operaio aveva la casa al mare e questo è accaduto e questo che cosa sta a significare sta a significare che quando la ricchezza è ben diluita negli anni 60 e supermercati non c'erano ancora sì c'era la standa c'era l'upim ma non vendevano alimentari l'upim vendeva vestiti vendeva altre cose che non erano gli alimentari la standa la standa già un po di più iniziava a vendere alimentari e altre cose era più che altro l'attrazione della scala mobile perché all'interno di questi supermercati che erano dislocati su dislocati su più piani come la rinascente a milano ma la rinascente non ho mai venduto genere alimentari perché perché tutto va di pari passo e io ho fatto militare e credo che l'organizzazione della caserma sia l'organizzazione ottimale per un per uno stato tuttavia sono anche per l'abolizione dell'esercito quindi non sono a favore dell'esercito però la mentalità della caserma dove tutto deve essere pulito tutto deve essere in ordine e tutto deve essere in orario perché la cosa più importante cioè venivi punito se non facevi quella cosa in orario io lavoravo al bar io lavoravo al circolo ufficiale facevo il barista cameriere se non aprivi il circolo alle sette ti punivano quindi tu ti alzavi prima degli altri io mi alzavo prima degli altri e andavo a aprire il circolo alle sette se si potesse copiare se si potesse copiare il funzionamento della della società il fatto è che c'è troppa gente che ignora e ignora che cosa ignora due cose fondamentalmente la prima che ha un nemico e gli mette a disposizione il denaro per far sì che questo nemico diventi sempre più forte in che modo lo fa mettendo i propri risparmi nelle banche esiste una legge che si chiama riserva frazionaria la riserva frazionaria permette alle banche di adoperare il 90 per cento di quello che è depositato e di garantire il 10 per cento cioè deve essere disponibile il 10 per cento sempre che cosa fanno uno dei soldi li tiene in banca non non li porta a casa e li mette sotto materasso giusto perché perché potrebbero venire i ladri eccetera 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 perché fin tanto che uno a 500 euro vabbè se li tiene il portafoglio se lo rapinano per strada perde 500 euro bene se però uno ha incomincia avere due tremila quattromila euro e cosa fa li tiene in casa quando va a lavorare arrivano i ladri li portano i soldi ci vuole un posto custodito dove dove tenere il denaro e io sono a favore del dell'abolizione del denaro con tanto così così i ladri che cosa fanno non rubano più perché non c'è più denaro dove dove lo rubano online se lo prendono online risulterà che quella somma di denaro è passata da lì è andata a finire la e quindi si trova subito là e soprattutto non ci sarà più nessuno che stamperà il denaro e di verrà proprietario come dicevo io l'unica vera cosa che in vera il denaro è il lavoro allora le banche hanno a disposizione il 90 per cento con quel 90 per con quel 90 per cento le banche fanno quello che vogliono e che cosa fanno oggi le banche allora che cosa sono le banche bisogna spiegare bene le banche sono dei depositi all'interno dei quali prima fino agli anni 80 c'erano delle persone che finanziavano il lavoro in cambio di una percentuale adesso non stiamo lì a dire alta bassa permettevano a qualcuno che aveva voglia di fare e siccome c'era il surplus quindi in quei periodi negli anni 70 riuscivi a vendere anche il soprammobile riuscivi a vendere anche il la cosa superflua che andava da belli e c'erano le tende coi fiocchi le tende non ci sono più nelle case ormai la gente non adopera più le tende o se le adopera sono tende che costano pochissimo e si comprano in questi supermercati e questo è il punto fondamentale la la ricchezza allora la prima cosa era quella di mettere i soldi nelle banche le banche adoperano i soldi dei correntisti per aprire supermercati quando apre un supermercato la gente ci va e questo secondo errore secondo errore che la gente va nel supermercato pensando che sia un servizio che bello il supermercato sono andato lì e c'era tutto mentre prima doveva andare dal macellaio dal polivendolo dal pesci vendolo doveva andare dal panettiere doveva andare dal verduriere doveva andare capito doveva fare il giro di 15 20 negozi invece al supermercato c'è tutto primo c'è tutto cosa tutto cosa c'è bisogna fare l'analisi anche di quello che troviamo al supermercato come viene coltivato quello che mangiamo e quello è il terzo grande sbaglio perché a seconda di quello che noi mangiamo noi siamo quello che siamo in base a quello che noi mangiamo e quello che noi beviamo e l'ho fatto ieri l'esempio cioè se uno beve benzina starà male prima o poi oppure lanciamo una nuova bibita la benzina no beviti un bel litro di benzina ti sentirei bene no come coltivatori lì che coltivano una volta un contadino aveva tre quattro campi e con quello viveva allevava gli animali i figli alleviamo i figli e la famiglia aveva tutto da mangiare perché l'orto era con il letame loro avevano il letame il letame che veniva prodotto dalla paglia e dal fieno che andavano a tagliare nei loro campi quello era vero biologico quello era vero biologico il biologico di oggi è un po più biologico del del convenzionale perché il convenzionale le colture coltivate col convenzionale possono avere dentro di tutto di tutto perché se hanno i concimi chimici hanno di tutto hanno i diserbanti hanno i insetticida hanno i pesticida poi lì è una scelta tu vai al supermercato compri quella roba lì oppure compri quella roba lì c'è anche la pasta a 70 centesimi al chilo come facciano a produrre a vendere più più che produrre a vendere la pasta a 70 centesimi al chilo io non riesco a capacitarmi di certo non è grano che arriva dall'italia anche se su alcune confezioni c'è scritto grano made in italy come l'idl no l'idl grano made in italy invece arrivava da tutte le altre parti gli hanno fatto una multa di un di un milione di euro ma quanto ha incassato l'idl con con quella pasta cioè truffando le persone qua ci vuole qualcuno che se accade una una cosa del genere cioè se la gente viene truffata bisogna togli la licenza non devi più vendere tu hai truffato le persone tu non devi più vendere punto altro che fargli la multa cioè come la fiat che fa sistematicamente falsi in bilancio poi arriva l'autority gli fa la multa ma quante persone ha truffato con quel falsi in bilancio la truffa continua e poi si vede noi il mo la movimentazione com'è la movimentazione nascono sempre di più e ogni giorno apre un nuovo supermercato perché perché le multinazionali stanno adoperando i soldi dei correntisti soprattutto in italia gli italiani hanno in banca qualcosa come 6.000 miliardi di risparmi 6.000 miliardi e quei soldi quindi il 90 per cento ma anche il 100 per cento viene adoperato dalle banche che sono di proprietà dei fondi di investimento black rock vanguard stay street eccetera 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 andate a vedere che cosa sono i fondi investimento i quali proprietari sono quelli che hanno fondato la borsa che è una truffa noi stiamo vivendo in una truffa in un saccheggio continuo c'è un assalto alla diligenza allora che cosa comporta il fatto che aprano supermercati supermercati che fanno una politica cioè adoperano i soldi dei correntisti i soldi dei correntisti per andare dai produttori quindi dai contadini a tirare il collo a dire noi noi compriamo 5.000 quintali di pasta che fai il produttore che fino a ieri di quintali di pasta ne faceva 100 dice alla faccia 5.000 prenda la calcolatrice però me le devi dare a questo costo e il produttore fa di nuovo i calcoli dice sì sì nonostante tutto ci siano dei margini ristretti io comunque guadagno dieci volte più di prima poi per fare quello hai bisogno di finanziamenti o vai da una banca o vai in borsa per vendire una parte di azienda per ampliare perché se producevi 100 adesso ne devi fare 5.000 devi ampliare devi assumere no e diventi schiavo della banca allora i produttori devono capire che c'è un limite e il limite deve essere limitrofo la ricchezza deve essere distribuita bene cioè non ci devono essere supermercati ci devono essere negozi a conduzione familiare perché il negozio negozianti si arricchisce si costruisce la casa si compra la casa adesso gli stipendi i salari i negozianti non esistono neanche più quei poi quei piccolini poveri che sono obbligati a fare l'ottanta per cento di nero perché sennò dovrebbero chiudere domani e ci sono questi supermercati ma è proprio si vede è un'azione militare che stanno facendo stanno riempendo l'italia con queste multinazionali non solo degli alimentari con le multinazionali anche di tutte le altre cose della ferramenta con l'erua merlin con con obi occhi come il cacchio si chiama con tutti questi supermercati del fai da te bricolegno che poi va lì a comprare una scatola di viti 3 euro e 50 cioè ti viene voglia di incazzarti proprio il fatto è che se tu cerchi in giro non ci sono più le ferramenta non ci sono più la ferramenta vende poi un prodotto che magari il supermercato non ha ti vende delle cose un po più specialistiche non c'è futuro non c'è futuro se noi non blocchiamo questi idioti questi imbecilli questi truffatori perché sono dei truffatori e il fatto è che la magistratura le forze dell'ordine la guardia finale lo sanno lo sanno tutti e il problema qual è il problema vero il problema vero sono le leggi che fanno i parlamentari i politici parlamentari sono le leggi che fanno i politici a favore di queste persone perché è un politico che ha criterio dice scusate ma se i soldi li prendete tutti voi e la tasca è una delle multinazionali il proprietario della multinazionale è uno perché la multinazionale di una banca la banca del fondo di investimento il fondo di investimento è di qualcuno uno se noi abbiamo invece 200.000 negozi 200.000 negozi 200.000 io vi sto facendo un esempio le cifre giuste poi se volete le cerco e ve le dico ma se noi abbiamo se noi abbiamo 200.000 negozi ci sono 200.000 tasche non una non una 200.000 tasche che si costruiscono alla casa che comprano l'auto che fanno quando uno costruisce la casa fa lavorare piastrellista il muratore l'idraulico l'imbianchino l'antennista quello che costruisce mattoni quello che produce la calcio quello che produce vernici cioè vi rendete conto cazzo no ma se continuiamo a mettere i soldi in banca e andare a fare la spesa la spesa supermercato sarà sempre peggio perché poi non a voi non avrete più lavoro perché i lavori non ci saranno più perché non ci saranno soldi tutti i soldi riprendono loro capito cioè come fa ma poi chiuderanno anche loro ma loro se ne fregano tanto il bottino ormai lo hanno fatto